Musica L'assessorato regionale ai trasporti ci riprova dopo la gara andata deserta per i voli in continuità territoriale su Alguero nessuna procedura d'urgenza ma un nuovo bando con più risorse a disposizione. Via Libera con i soli voti della maggioranza le nuove tariffe tari non senza polemiche così come già venuto in consiglio il sindaco Cacciotto ha evitato un buco di oltre un milione, critiche dal centrodestra. Al via questa sera l'Alghe Summer Festival sul palco dell'anfiteatro Ima Graziani di Maria Pia, Angelina Mango e Tedua ma sono tanti i nomi da qui ad agosto, intanto come da tradizione ad Alguero per i mesi estivi è tornato in Luna Park Matterland. Un saluto a tutti voi, bentrovati, una nuova edizione nel nostro telegiornale come avete sentito dalle anticipazioni e dai titoli. In primo piano la continuità territoriale su Alguero dopo l'apertura delle buste per le quali però non ci sono state offerte appunto per lo scalo Rivera del Corallo. Allora si procederà con un nuovo bando e non con una procedura negoziata ad urgenza come inizialmente ipotizzato e auspicato da più parti. Ieri l'annuncio dell'assessora regionale trasporti Barbara ma anche allo sforzo economico per rendere maggiormente appetibile la gara è stato massimo, ha detto. Nessuna procedura ad urgenza per i voli in continuità territoriale su Alguero, unico aeroporto sardo rimasto per ora secco ma un nuovo bando già predisposto e inviato al Ministero dei Trasporti. Lo sforzo economico per rendere maggiormente appetibile la gara è stato massimo, ferma in una nota l'assessora Barbara Manca. Con questa nuova procedura aperta sono state infatti incrementate le risorse in maniera sostanziale e decisamente superiori a quelle che avremmo potuto mettere in campo con una procedura di emergenza. In quel caso l'aumento di risorse sarebbe stato non superiore al 10%. Abbiamo preferito percorrere un'altra strada, sottolinea l'esponente dell'Aggiunta Todde. Dopo anni di procedure d'urgenza serviva a dare un segnale forte ai cittadini e vettori con azioni tempestive ragionate e messe in atto con i tempi necessari ad assicurare il servizio migliore possibile. Con questo nuovo bando, destinato esclusivamente ad Alghero, la regione vuole dare a tutti gli stakeholder un segnale di serieta e impegno. Alghero e tutto il territorio del Sassarese meritano gli stessi diritti e le stesse tutele delle altre zone dell'isola, a prescindere da valutazioni di libero mercato. Per la nuova gara, completata la parte di competenza dell'assessorato, inizia Uniter che ha visto come primo step la trasmissione nella giornata di lunedì di una nota al Ministero dei Trasporti, recanti ai contenuti del bando. A sua volta, il Ministero lo trasmetterà alla Commissione europea per la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Siamo certi che ci sarà la massima collaborazione da parte di tutte le istituzioni coinvolte per fare in modo che la gara vada a buon fine, ribadisce Barbara Manca. Contestualmente va avanti spedita la procedura per l'affidamento delle rotte da Cagliari e Olbia, per le quali sono prevenute offerte. Il seggio di gara sta verificando la documentazione amministrativa. Successivamente, la Commissione passerà all'analisi delle offerte economiche. Ci si augura che la procedura vada a buon fine e quando ci sono gare così delicate in ballo, responsabilità vuole che tutta la politica entri il meno possibile nella procedura amministrativa per garantire la miglior riuscita senza elementi di inquinamento e di sorta, dichiara da parte sua Michele Paes, ex Presidente del Consiglio regionale e coordinatore sardo della Lega. L'obiettivo comune è quello di assicurare collegamenti in regime di continuità territoriale su tutti gli scali e in particolar modo su quello di Alghero, che risulta il più fragile. Stabilità nei collegamenti e tariffa unica devono essere l'obiettivo finale, come è avvenuto in passato. Il Ministero dei Trasporti è al fianco della Sardegna e la continuità territoriale. Le esigenze dei Sardi sono una priorità con un dossier specifico del Vice Premiere Ministro Salvini, che infatti a fine mese tornerà sull'isola, aggiunge Paes. Torniamo ora invece sull'ultimo Consiglio Comunale che ha approvato, non senza polemiche, le nuove tariffe tari. Evitato un buco di bilancio di oltre un milione di euro, ha rimarcato il Sindaco Raimondo Cacciotto. Un errore invece, secondo il centrodestra, la scelta della sinistra di non riportare la delibera in commissione, permettere a tutti i consiglieri di approfondire il tema. Con 14 voti favorevoli e uno contrario, la maggioranza ha approvato le tariffe tari sulla base del piano economico-finanziario, votato il 4 giugno dal Consiglio Comunale uscente. La mancata approvazione delle tariffe durante la precedente consigliatura ha portato in eletto Consiglio alla definizione delle stesse con carattere di urgenza, riuscendo a evitare un buco di bilancio di oltre un milione di euro e un conseguente incremento delle tariffe per il 2025, che avrebbe inciso in maniera considerevole sui contribuenti, viene sottolineato in una nota ufficiale del Comune. Se negli ultimi anni il PEF e le tariffe sono aumentate in maniera considerevole, ha spiegato il Sindaco Cacciotto durante il suo intervento in aula, è evidente che anche quest'anno non potevano che incrementare per via della base di calcolo già alta in partenza. Non amo guardare indietro dallo specchietto retrovisore, ciò che è chiaro è che bisogna definire il nuovo appalto di gara per la nettezza urbana al dettaglio e in tempi rapidi, dal momento che il servizio è già stato prorogato fino al 31 dicembre. La determinazione del nuovo scenario della nettezza urbana ha come obiettivo l'introduzione del principio del calcolo della tariffa puntuale. In questo modo i cittadini potranno pagare anche in proporzione ai rifiuti prodotti e alla puntualità con cui viene svolta la raccolta differenziata, e allo stesso tempo godere di un servizio di maggiore qualità e di una città decorosa e pulita. Così come è avvenuto in occasione della seduta, anche a posteriori l'opposizione di centrodestra è stata particolarmente critica. Meno di dieci giorni fa ci sono stati raccontati i lavori che sarebbero avvenuti nel solco del rispetto del ruolo del Consiglio e delle Commissioni. Neanche due settimane dopo il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta straordinaria per approvare entro le scadenze imminenti le nuove tariffe tariche prevedono aumenti nell'ordine del 4% legati ai aumenti istat. Hanno scritto in una nota Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Patto Civico, Odice e Primalghiero. Un errore, la scelta della sinistra di non riportare la delibera in commissione e permettere a tutti i consiglieri di approfondire il tema, non riconoscendo il nuovo Consiglio Comunale e le nuove commissioni, distruire e discutere le delibere rimaste in evase, compromettendo così la trasparenza e l'efficacia del processo decisionale. Resta dubbio anche l'enigma delle modifiche delle date di pagamento delle rate tari, configurandosi di fatto come una modifica del regolamento, circostanza che mette a rischio la legittimità della delibera, secondo il centro-destra, posto che sono stati violati smaccatamente i termini di reposito degli atti previsti dalla vigente normativa, per consentire ai consiglieri di studiare e approfondire la tematica, cosa che comporterebbe la facoltà per i contribuenti di reagire in giudizio, con la possibilità di emersione di un buco tari di 500 mila euro e di un pari danno erariale a carico di chi si è assunto l'onere di votare l'atto. La gestione dell'appalto per la raccolta dei rifiuti, approvato nel 2017 dall'amministrazione Bruno, ha presentato sin dall'inizio gravi lacune, sostengono dal centro-destra. La scelta del precedente governo di avviare il conferimento nella forma del porta-porta, all'interno di un appalto già definito, ha comportato una disparità di costi di circa 2 milioni di euro, portando alla cancellazione di servizi essenziali come lo spazzamento e il lavaggio delle strade. Invitiamo la Giunta e i consiglieri a studiare meglio i temi in questione, per evitare di esporre la propria maggioranza figuracce. Occorre ricordare che l'attuale appalto della nettezza urbana è frutto delle scelte discutibili fatte dall'amministrazione di centro-sinistra e richiamiamo il presidente Pirisi a far rispettare il ruolo del Consiglio e dei consiglieri concludono i partiti di opposizione. Grande paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nel tardo pomeriggio di ieri nella centralissima via Sassari ad Alghero per un grosso ramo di un albero caduto su uno scooter su un'auto parcheggiata all'altezza di fatto della pasticceria Ciro. Il ramo infatti non ha fortunatamente ferito nessuno, ma è stato davvero un caso fortuito. L'episodio ricorda quello avvenuto soltanto pochi giorni fa, del quale abbiamo parlato, sempre nella zona di via Sassari, ma poco più avanti, quando un grosso ramo è caduto nel cortile interno della scuola Maria Immacolata, dove si trova peraltro anche la sede della Caritas Cittadina. Ieri sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia locale, con gli agenti che hanno diviato la circolazione per consentire la rimozione del grosso ramo. Ma a maggior ragione, dopo questo nuovo episodio, residenti e commercianti chiedono una verifica accurata e soprattutto una maggiore cura delle alberate cittadine. Il segretario territoriale FIA del Sassari, Stefano Del Rio, interviene invece sulle problematiche legate ai vari ecobox sparsi in città, con particolare attenzione a quelli in via Sassari, lato edicola e in via Simon, lato opposto a quelli in via Kennedy, in prossimità di Piazza Sulis. Del Rio in una nota ricorda di aver già segnalato in tempi recenti lo sgradevole stato in cui sono gli ecobox della città e si fa portavoce delle lamentere degli operatori assegnate alla raccolta delle frazioni commerciali, che si vedono costretti ogni giorno, dice, per adempire il servizio ed entrare fisicamente in questi ecobox totalmente privi di pulizia, è stato faticente, quindi pericolosi, con nessuna raccolta differenziata effettuata, si trovano a rivistare tra comuni di bustoni di immondizia e spesso trovare i carrellati forniti dal comune per conferire vuoti. Oltre a questo, si aggiunge il fatto dei liquami che tali rifiuti rilasciano a terra fino all'esterno degli stessi ecobox, che gli operatori calpestano e che nei loro rilasci maledoranti fungono da richiamo per ratti, topi e scarafaggi il tutto, tenendo conto anche del pessimo stato di una manutenzione igienica costante di ecobox e dei carrellati annessi del rio più della nota, toccando il punto più dolente, le difficoltà di raccolta che si hanno negli ecobox all'interno del centro storico, da sempre fiore all'occhiello della nostra città, più volte segnalato alla direzione aziendale dalla nostra organizzazione sindacale FIA del DICE. Oltre a tutte le problematiche elencate precedentemente, si aggiungono le difficoltà che gli operatori devono affrontare per lo svuotamento dei carrellati nelle vie anguste e tra i tavolini con i turisti che mangiano, il tutto tra le ire degli stessi ma anche degli esercenti e dei concittadini come che la responsabilità sia loro, conclude Stefano Del Rio. Intanto dal comune rendono noto che è istituito il divieto temporaneo di accesso nella spiaggia l'Astronas sul lungomare Valencia da l'una di notte di giovedì 18 luglio alle 8 del mattino di venerdì 19 luglio per consentire le operazioni di disinfestazione e deratizzazione. L'ufficio ambiente, precisano da Portaterra, ha programmato l'intervento in accordo con la provincia di Sassari e la società Multis. E al via oggi, questa sera all'Alghe Summer Festival, atteso appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo nato per volontà di Scenic Production con il supporto di Comune di Alghero, Fondazione Alghero in collaborazione con le ragazze terribili Eroble Factory, illuminerà il grande palco dell'Anfiteatro Immagrazioni di Maria Pia sino ad agosto. Il via oggi, quando saliranno sul palco Tedua e Angelina Mango. Tedua si conferma come uno dei nomi più forti della scena musicale attuale. Il suo album La Divina Commedia ha conquistato il sesto disco di platino. La nuova certificazione della Divina Commedia conferma il successo del suo ultimo album, di cui il 24 maggio è uscita la seconda parte, Paradiso, La Divina Commedia dell'Axe, sarà preceduto Tedua sul palco da Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo. I due artisti hanno tra l'altro collaborato sul brano Angelo Custode e contenuto proprio nell'ultimo disco di Tedua. Prossimo appuntamento dell'Alghe Summer Festival sarà poi questo sabato, 20 luglio, con Calcutta e la tappa del suo Relax Tour estivo 2024. Ma estate ad Alghero è anche targata Matterland. Infatti da qualche giorno il Luna Park è tornato a illuminare il porto cittadino con le sue attrazioni per i più piccoli ma anche per i grandi. E noi come da tradizione abbiamo intervistato il patron Corrado Marengo. Noi siamo felici di ogni anno arrivare ad Alghero, ormai sono 61 anni che io vengo ad Alghero, ho conosciuto generazioni di famiglie, da bambini sono diventate anche nonni, mi vengono sempre a salutare. A me questo mi dà la forza di continuare a fare questo lavoro e non andare in pensione, perché mi piace la gente e noi siamo ormai una tradizione per Alghero. Ci aspettano, quando arriviamo noi, adesso comincia l'estate algherese. Assolutamente sì, anzi ci ricordiamo anche i tempi nei quali Matterland installava già le proprie attrazioni a giugno, quest'anno a luglio si proseguirà fino a settembre come da tradizione. Certo, fino a settembre stiamo qui. Poi vediamo questa amministrazione, se la pensa anche come l'altra amministrazione, che ci vogliono anche per il Natale, perché portare allegria in questa zona, ci vuole luce, 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 luce e portiamo tutta la Sardegna ad Alghero, è la cosa più bella. Queste sono le soddisfazioni della vita, queste sono. Come stanno andando questi primi giorni, queste prime settimane qua ad Alghero? Qui a Alghero non è i grandi incassi che facciamo ogni giorno, ma è il tran tran. La goccia riempie il vaso, questa è la cosa importante. Poi i soldi fino a un certo punto, bisogna andare avanti e viverla la vita, così. Non sono i soldi che fanno la felicità. Giostre che piacciono i piccoli, ma anche i grandi. Quando apre il Luna Parmaterla ci sono i giovani che arrivano adesso, c'è quella giostra a Seggiolini che lì si divertono un mondo. E li facciamo passare le serate e poi ce li teniamo qua e non fanno danni da altre parti. E sono occupati, e questa è la bellezza del parco divertimenti, è capito? Proiezioni dedicate ai piccoli spettatori, itinerari cineturistici, prosegue la navigazione di Cinema delle Terre e del Mare, il festival della società umanitaria di Alghero che per tutto il mese di luglio promuove il grande cinema nei luoghi più suggestivi della riviera del Corallo. Due serate dedicate ai bambini e alle bambine, tra i 5 e i 10 anni grazie al progetto Camper Kids, a cura dell'associazione Fuori di Camper, in collaborazione con l'ICD Polisportiva Sotto Rete. Appuntamento quest'oggi e domani, giovedì 18 luglio, al Summer Beach Village nel Lido San Giovanni. Entrambi i giorni si comincia alle 20.30 per il gioca cinema, a cura del mini club Summer Beach Icnu, a seguire i film in programma. Oggi le avventure del piccolo Nicolas, film francese di Amandine Fredon e Benjamin Massubre. E domani Ernest e Celestine, l'avventura delle sette note, anche in questo caso pellicola d'Oltralpe, firmata da Stefano Biè, Vincent Patà e Benjamin Renne. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri 340 40 35 118 oppure il 349 63 347 11. E ci spostiamo ora invece nella piscina comunale di Maria Pia perché procedono a pieno ritmo le attività nella piscina. Dal noto guidato i corsi per i più piccoli, passando per l'acqua fitness, tante le possibilità che offre la struttura comunale in gestione alla società Alge Sport. Ne ha parlato i nostri microfoni il responsabile Lorenzo Zicconi, ma abbiamo intervistato anche uno dei ragazzi della squadra agonistica che sta ottenendo brillanti risultati in Sardegna nonostante le difficoltà nei mesi invernali per l'assenza in città di una struttura al coperto. Sì, abbiamo iniziato tutte le attività, dalla scuola nuoto all'agonistica, al nuoto per adulti, a varie esserciazioni che vengono e portano i bambini in piscina, i vari campi estivi che ci sono su tutta la rivela del Corallo. Tutti compresi convenzionati, siamo contenti per quanto riguarda la risposta della cittadinanza. Adesso si tratterà di mettere a punto ancora la macchina organizzativa per creare altri eventi, altri incontri in cui la città possa conoscere veramente la piscina comunale. Piscina comunale di Maria Pia che è, lo ricordiamo, aperta dal mattino fino alla sera. Sì, la piscina apre alle 8, l'ingresso è quindi previsto dalle 8 fino alle 20 della sera tutti i giorni, compresi sabato e domenica. Ci sono varie attività per i bambini ma non solo, anche per i grandi. Sì, per i grandi abbiamo le attività di relax, le attività di acqua fitness e l'attività di nuoto guidato per gli adulti. No, benissimo, abbiamo avuto notevoli risultati anche quest'anno con i campionati regionali sia invernali che estivi. Adesso, questo fine settimana, ci aspettano i campionati assoluti e poi abbiamo avuto anche la partecipazione ai campionati italiani di salvamento. Ricordiamo che voi vi allenate d'estate qui, però d'inverno siete costretti ad andare in trasferta a Porto Torres, sicuramente è una situazione di disagio, con l'auspicio che finalmente anche Alghero possa avere una piscina a coperta. Sì, sicuramente è una situazione di disagio, principalmente per noi, anche con la scuola, ma anche con i nostri genitori che fanno dei grandi sacrifici per portarci avanti e indietro tutti i giorni a Porto Torres, anche con il nostro allenatore. E noi speriamo che entro poco tempo si possa riaprire la piscina qua ad Alghero al coperto, ma non solamente per noi atleti, ma anche per tutta la città di Alghero, che sicuramente sarebbe un bel pregio da portare anche all'esterno della nostra città. E il nuoto chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Io, come di consueto, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.